Torniamo a parlare di buche, ma non per mostrarvene altre. In molti dei nostri servizi relativi allo stato d'incuria delle strade cittadine, abbiamo sottolineato come eventuali danni a cose e persone rappresentino potenziali motivi per l'apertura di diversi contenziosi contro lente di Palazzo Mozzagrugno. A dar manforte alle nostre supposizioni è arrivato l'ennesimo pronunciamento della Corte di Cassazione in materia, che questa volta ha decretato la responsabilità penale di comuni e dirigenti derivante da incidenti causati dai pericoli presenti sulle strade cittadine frutto dell'incuria e della mancata manutenzione. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha infatti convalidato la condanna per lesioni colpose nei confronti di un funzionario dell'ufficio tecnico del comune di Acquiterme, in provincia di Alessandria, chiamato in causa da una donna inciampata a causa di un disrivello dell'asfalto. Con questa sentenza i giudici hanno sottolineato che il sindaco e il responsabile dell'ufficio tecnico del comune assumono la posizione di garanzia sulla base di una generale norma di diligenza, che impone agli organi dell'amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell'ambito delle rispettive competenze per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali. Si apre quindi uno scenario più pesante per i responsabili della manutenzione delle strade cittadine, siano essi rappresentanti politici o funzionari della tecnostruttura, che da oggi potranno essere chiamati a rispondere in sede penale agli eventuali danni provocati dalla mancata rimozione di buche, dislivelli e disomogeneità del manto stradale. Un fatto questo che dovrebbe mettere sull'allerta i nostri amministratori e i responsabili della tecnostruttura comunale, considerate le condizioni in cui versano le strade di Lucera. Non sono più sufficienti, dunque, i piccoli lavori di copertura delle buche fatti in economia e alla bella e meglio. Occorrerebbe invece la stesura e l'attuazione di un piano di manutenzione continua e costante dell'apparato viario cittadino. E' questo ciò che ci viene da suggerire ai nostri interlocutori a Palazzo di Città. Del resto, per restare in tema di adagi, prevenire è meglio che curare.